L'Irish Fest a Notaresco è andata una meraviglia in tutti i sensi. Sì, sì. Abbiamo inteso di ricominciare dopo l'anno di lockdown, ricominciare con responsabilità, un festival solo l'aperto, con il borgo perimetrato. Per entrare bisognava avere il biglietto, quest'anno abbiamo fatto il ticket per scoraggiare le presenze, invece quelle presenze sono sempre numerose ma nel limite che ci hanno autorizzato. Ed è bello perché c'è un clima di festa, di serenità. La cosa bella è che quando c'è serenità e entusiasmo genera pill, perché è innegabile che abbiamo persone dalla Lombardia, dal Veneto, dal Piemonte, dalla Toscana, dalle Marche, dalla Puglia, dal Molise, Lazio. Ecco, questo è bello perché quando riusciamo a portare persone da fuori generiamo un pill interno che poi crea valore a tutta la comunità. Abbiamo occupato tanti B&B, tanti hotel, non solo per Notaresco ma per tutta la provincia di Teramo. Cosa? Ecco, cosa? Cosa? ibebollale Cosa? Bано지à? Cosa? 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 Cosa?